La Notte Europea della Geografia per analizzare le mille possibilità di sviluppo di un territorio attraverso la materia. Aprire gli infiniti orizzonti della geografia in un unico grande evento che ha chiamato a rapporto Facoltà Universitari e Scuole Superiori. La manifestazione si è svolta in 30 città italiane, ha aderito anche l'Università del Molise che a Termoli ha aperto i propri laboratori presentando diversi progetti realizzati dagli studenti. Nel caso dell'Unimo la Facoltà di Scienze e Turistiche ha voluto mettere in correlazione la materia con le possibilità di promozioni che il territorio potrebbe utilizzare proprio attraverso la geografia. Si pensa sempre che sia una materia arida, sterile, confinata su degli aspetti, insomma le cime dei monti o qualcosa del genere, non è così, è qualcosa di molto più complesso. La geografia nelle scuole non viene sempre insegnata come si dovrebbe, nell'università stiamo cercando di fare un lavoro un pochino più complesso ma stiamo cercando di coinvolgere le scuole anche come AIG Molise, anche come Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione Molise, stiamo cercando di coinvolgere le scuole in un percorso che metta il territorio al centro. Per la Notte Europea della Geografia gli studenti hanno presentato due progetti su pannelli, il primo riguarda il meridiano di Termoli. Questo progetto alla ricerca del meridiano perduto è stato presentato nel convegno del NEIG dello scorso ottobre proprio per far emergere questa particolarità di Termoli, cioè la sua posizione coincide con il quindicesimo meridiano est e tra l'altro non solo il quindicesimo meridiano ma vi è anche l'incrocio con il quarantaduesimo parallelo. Questa è una particolarità che pochi in pochi conoscono e che potrebbe essere utile per una nuova immagine turistica. Sfruttando le nuove tecnologie si è voluto mettere in relazione anche il territorio di Guglionesi con un'applicazione che consente in pochi istanti di visionare le zone più caratteristiche del posto. Il paesaggio visto da Guglionesi è un paesaggio definito a 360 gradi proprio perché grazie alla sua posizione geografica ha alcuni punti strategici che permettono di avere una versione completa del paesaggio circostante. Il progetto si è sviluppato nel corso di Geografia Umana e in collaborazione con il Laboratorio Morgana abbiamo digitalizzato questi punti e con l'utilizzo del QR code abbiamo reso alcune panoramiche interattive e quindi in questo caso abbiamo dato la possibilità di usufruire di alcuni contenuti sia fotografici che testuali che spiegano il paesaggio di Guglionesi dai diversi punti di belvedere.